Dai tre duelli, dai tre duelli, dai tre duelli! Doveva accadere che impazzissi prima o poi Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo episodio di Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution Arc di Yu-Gi-Oh! Arc V si suona malissimo Comunque, siamo praticamente a metà della storia O almeno così sembra, se non lo siamo con questo duello lo saremo Ovvero messaggio per Yu-Gi-Oh! E mancano altri 20 duelli, credo, dopo questo O forse qualcosina di meno Ma sarebbe troppo fare due duelli ad episodio Mancherebbero ancora 7-8 episodi, è un po' troppo Quindi magari oggi cerco di farne tre Il torneo è lungo da quello che ho letto nei commenti Quindi cerchiamo di smaltire il più possibile Vediamo che succede oggi Duello successivo nel torneo dell'amicizia Zuzu affrontò un duellante professionista del passato Bello Chojiro, l'eroe Sono stato via per 10 lunghi anni Ma il vostro eroe è tornato ed è più in forma che mai Con quell'accappatoio non si direbbe Sì, non è un accappatoio ma era una battuta Devo vincere per dimostrare ai miei fan che i sogni possono diventare realtà Mi dispiace signorina E per cosa si sta scusando? Spero che Yu-Gi-Oh! Stia guardando il mio duello di debutto Un duello di debutto di cosa? A quanto pare però Yuya era sorpreso di vedere anche Zuzu nella dimensione sincro Quindi si incontrano Cioè, o meglio, Yuya sta vedendo il duello di Zuzu Bah! Interessante Andiamo un po' Ah, maravacici, cocco Volevo fare carta ma è uscito un pugno Vabbè, meglio così Andiamo un secondo, vai Questo duellante del passato Chojiro Tokumatsu Ah, sì Generale il duellante Siamo nel mondo dei duelli, sì Il gioco di carte non esisteva fino a, in teoria 10 anni effettivamente Nel mondo di Yu-Gi-Oh! Più o meno Forse 15-16 in massimo Non importa Allora, iniziamo giocando ovviamente No No Se gioco già richiamo del posseduto È probabile che me la scoppi Quindi Devo frumine Voltex Bello Allora Attivo subitissimo la carta magia continua Fortissimo Che è anche una tecnica di Ilazuma Eleven Questa carta pianissimo è molto strana Però abbiamo Diva Melodiosa Cosa? Aspetta, aspetta Evocherei In attacco Opera la Diva Melodiosa Ha un grande potenziale offensivo Solo 4 stelline Ma non può attaccare nel turno in cui viene evocata Va bene Aspettiamo e vediamo che succede Aia Ok, scarta le prime 3 carte Eh, guadagno Ma poi di attacco guadagna Ma Ah, si smazza il deck Certamente Ovvio Evocherei Allora Evocare no Posiziono L'onesto In difesa Ovviamente coperto E Faccio la fusione Ah, non lo so Ho Schuberta E Diva Fioritura Diva Fioritura Non può essere distrutta in battaglia Beh, lo faccio Lo faccio Dai, male che va Mi perdo un mostro Con tantissimo di attacco Ah, non posso Ah, devo mandarla al cimitero Per fare la fusione Ah Eh, vabbè Gli aumento l'attacco Allora Dai Ah, si Posso attivare Ah, no Pianissimo Ah, no No, no No, allora Può mandare questa carta al cimitero Eh, beh Come? Comunque Comunque Brichiamo Depossed coperta Perché non si sa mai E attacchiamo Il mostriciattolo scoperto Che ha solo 400 di attacco Vuoi attivare l'effetto della carta? Ancora pianissimo No Ah, è rapida Ecco, mi sembrava Beh, l'attacco originale diventa 100 Quindi No Non vedo perché Aumentare di Far diventare l'attacco originale di 100 Allora Attacca Guadagna 800 di attacco Fino alla mia prossima end phase Oddio Ah, bene Bravissimo Ma tu sai giocare le carte allora di Yu-Gi-Oh Non giochi da 10 anni ma hai un deck all'avanguardia Bravo Allora Direi che sto per concludere Evoco tramite evocazione speciale Canone la diva melodiosa Che può essere evocata tramite evocazione speciale Se controllo già un mostro melodiosa Evoco anche serenata la diva melodiosa in attacco E gioco fulmine e voltex Scarto pianissimo E tutti i suoi mostri scoperti vengono distrutti Si può pescare due carte grazie all'effetto di quella carta Allora attacco con serenata Attacco con canone E attacco con La mia stupidità Che mi ha fatto Non vincere il duello in questo turno Direi che sto per concludere Perché ho dimenticato di mettere in attacco Il pezzettino Di parafango Che si chiama Onesto Tu guarda Guarda qua Guarda Guarda che combina ora Tu guarda che combina ora sto parafango qua Lo fai? Lo fa Lo fa Eh lo fa Oh Lo fa Lo può fare Con 11 stelline Wow Ehehehe Già Ti sei perso? Ehi Ah, ecco, si è ricordato Niente, un attimo installo perché non sa cosa fare Quanti sacrifici fa in un turno? Ma che cacchio? Ma che deck è questo? È fantastico, si smazza tutto Va bene Ah, ecco Ecco, ho capito Ho capito come funziona ora, ho capito Io lo sapevo Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo Che mi andava a fare Mi spanculava tutto, lo sapevo Dai Continua un po' a smazzare Così il prossimo turno non c'è niente Eh Ragazzi, boh Eh Ma così pesco e prendo danno Vado in battle phase Attacco questa E attivo l'effetto della carta Score La diva melodiosa Ehi, stop Why? Eh Faccio errori da principiante Finito A volte si vince, a volte si perde Ma chi perde è caso strano E andiamo avanti che è meglio Beh, Yuya Spero che questo duello ti faccia venire voglia di entrare in azione Grazie, Zuzu Sei stata fantastica Dopo lo sbaglio Bruttist Beh, proprio Spero di esserlo anch'io Eh, lo sarai, Yuya Lo sarai Una luce nel te Beh, primo duello fatto Sospettando del comportamento di Dennis Shay lo affrontò nella sfida successiva del torno dell'amicizia Così sfido chi mi pare Stai nascondendo qualcosa, Dennis Non sei così incompetente come gli altri duellanti dell'allio che ho affrontato Sicuro che sei dell'allio? Ma certo Se non è uno studente dell'allio, allora da dove viene? Temo che stia imboccando la strada giusta Devo fare tutto il necessario per dipistarlo Dimentichiamoci della nostra amicizia finché questa sfida non sarà finita, d'accordo? Non ti preoccupare Questa è una guerra, Dennis Facci piano Duelliamo! E allora duelliamo Quanto chiacchierate Va bene la storia Però Martiamo al limite le chiacchiere Su Secondo iniziere pure stavolta Vai Dennis McField Campo Mac Poi Mac Non ho mai capito per cosa sta Allora Che abbiamo qui? Ah i Red Raptor Belli Fusione Coscrizioni Bello Bello fratello Ah lui c'ha le macchine Che piaga le macchine Questo qui a 1900 di difesa Già me lo sento per le ossa Allora Che facciamo? Vabbè Mettiamo coperta Rai Nascita Xyz Che non fa mai male Attiviamo Raid Raptor Nido Che è continua Ma evoco Raid Raptor Lanius Lanius Evanescente Non so leggere Attivo l'effetto Che mi permette di evocare un altro mostro Raid Raptor Di livello 4 Inferiore Evoco Raid Raptor Lanius Tributo E attivo l'effetto Di Lanius Tributo Che mi permette di rimanere una carta Raid Raptor Dal mio deck Al cimitero Ci mando Aquila Teschio Posso attivare quindi L'effetto di Nido Che quando ho due mostri Raid Raptor In campo Posso evocarne uno Dal deck E ce l'abbiamo fatta Potevo evocarlo anche dal cimitero Ma ci pensiamo dopo Uno dice Beh potevi già fare L'evocazione Sì Calma calma Con l'evocazione Intanto Raid Raptor Sta al cimitero E posso attivare il suo effetto Se ho un'altra carta Raid Raptor Al cimitero Quindi ora Attacchiamo Con 1800 O 1000 Oh Artista Magus Fuoco Peluche Nani Oh Che bello Allora non ti attacco più Mi fermo qui Hai un mostro Con 1600 Artista Magus Ah I Magus Lui Non le macchine Eh sì Ma c'è ne va Eccola Golem Ingranaggio Antico Finale Reminescenze Del drago piante Chi è Avocamu Artista Magus Mago del trapezio Che bella carta 2500 Di attacco Guarda un po' Eh Te pareva Che carta avevo Ah Posso evocare Raid Raptor Avvoltoio Vendicatore E bene Ma in difesa Non si sa mai Questo può attaccare 50 volte Non lo so io Eh non può farlo Bene 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 Allora Vediamo un po' Che ci abbiamo in mano Alza Rango Magico Doppia Forza del Destino No Ma evoco Lainius Canterino Dunque Ho Lainius Canterino in campo E ho tre mostri Di livello 4 Quindi evoco Raid Raptor Falco Ascendente 1 2 E 3 Facciamo La giocata Del secolo In attacco C'è il motivo In attacco Non è mica A caso Attivo l'effetto Scartando Un materiale Da questa carta Codagno Tanto attacco Quando il mostro Che scelgo Come sversaglio Inoltre Non posso attivare L'effetto Scusami Teschio Qua Dov'è Aquila Me lo distrugge Il maledetto Vabbè posso attaccare Due volte Però almeno Quello Me lo distrugge Grazie all'effetto Ok lui gioca Eh sta andando Sta andando Male ma sta andando No Oddio 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 Ah però Anche la scelta Del deck Vero Vabbè evoco Tributo L'Agnius Tributo E lo gioco Qua In attacco Evocato Oh cacchio Però posso Ancora attaccare Eh ora Bisogna vedere Come va Perché se pesca La carta Sbagliata Ok Sì attivo L'effetto Di Lanius Sfocato E pesco Una carta Dal deck Ok Ora le cose Sono due O perdo O vinco E mi sa che Non perdo Però ancora Non ancora Allora Gioco nido Un'altra volta Posso farlo Una volta Per turno Evoco Quanto è 1200 500 Mi serve Da 1800 Allora Eccolo qua Avanti Un'altra volta Un'altra volta Tributo E vince E vince Anche questo duello Allora Dimensione Dimensione fusione È vero che mi ha ingannato Ma in questo modo Adesso il nemico È uscito allo scoperto Il professore deve aver mandato Dennis a catturare anche me Quindi Quelli dell'acchierema di duelli Hanno catturato Lulu e Rin E vorranno anche Zuzu e Serena ovviamente E cosa vogliono da voi? Donne Non le hanno nel loro mondo forse Oh duelli fra rapaci Raid Raptor Contro Alla nera O meglio Alla nera Contro Raid Raptor E si può vincere Si può vincere Alla nera Ne ha chiudà Dopo che Dennis Rivela di essere una spia Yuya viene a sapere Dell'esistenza di un altro Inquisitatore Dalla dimensione fusione Sora Devo ammettere che è fatica A credere che tu sia davvero qui E perché mai? Dopo aver saputo che Zuzu non era All'academia dei duelli Sono tornato nella vostra dimensione Per recuperare Serena Sperando di trovare anche Zuzu Ma quando sono arrivato Era troppo tardi Sono venuto a sapere Che Serena E voi lanceri Eravate partiti Per l'altra dimensione Quando ho saputo Che Dennis Aveva sputato il Rospon Sulla sopravenienza Dalla dimensione fusione La sua copertura Era ormai saltata E ci perché l'ha detto E così l'ha rimandato All'academia dei duelli Ma così rivederà Che Zuzu e Serena Sono qui Eeeeeee Quindi se non vogliamo Che prendano Zuzu Dobbiamo andare A recuperare Serena E riportarla Da Sora perse E perché mai? Perché tu mi consegnere Serena E poi potrai Andartene con Zuzu Beh Il professore non l'avrà vinta Ma perché? Quindi l'accademia dei duelli Sta per attaccare questa città Senza dubbio Manderanno Yuri Ovunque vada Non resta altro che distruzione E vai con un altro duello Tutti i lanceri sono traditori Incluso il mio prossimo avversario Ma non è vero Dennis non può essere l'unico Ce ne devono essere altri Dell'accademia dei duelli Che si sono infiltrati In questa dimensione Non posso fidarmi di nessuno Devo trattare tutti Come se fossero nemici Duello! Mamma mia ragazzi Che roba Guarda come te lo scelgo Ah Ho perso Ho perso anche il duello Allora Dimmi per secondo Io per secondo Non tu Dannato Shea Obsidian E i tuoi uccellacci rapaci Che poi sono In realtà sono robot Ma vabbè Un altro discorso Quello Allora Ghast Di te mi ricordo Ti evoco specialmente In difesa Però Ah E beh Evoco specialmente Anche Orochi La burrasca Eh Eh già Eh già Evoco Decay Decay Il vento malefico E faccio un'evocazione Fermati Faccio un'evocazione Sincro Nothing La luce di stelle Bello Ora C'è il problema Di decay Che al cimitero Mi prende Un tot di danni Però Però Capiamoci Intanto l'avversario Si prende 800 di danno Grazie all'effetto Va bene Allora faccio un'altra evocazione Sincro Ed evoco Hala nera d'assalto Raikiri Il rovescio della pioggia Di pioggia Corretto Non è male È un bel mostro È un bel mostro Anzi Guarda qui che robina Anche il suo effetto È particolare È considerato comunque Un'ala nera Non attivo l'effetto Che mi pare inutile E finisco il turno Potevo evocare Un altro Ala nera Eh Potevo farlo Però aspetto il turno dopo Magari non ha nulla Non si sa mai Gioca in difesa Una carta coperta Eh Dai Evoco specialmente Bora la lancia Oh Non fa mai male Evoco specialmente Orochi la burrasca Qua In difesa Ed evoco anche Decay In vento malefico Un'altra volta Ora Attivo l'effetto Di Raikiri In base a quanti Mostri alla nera Che controllo Posso distruggere Lo stesso numero Di carte Sul terreno Dell'avversario Posso distruggerne Fino a tre Lui ne ha solo due E ora ti attacco Così per il gusto Di farlo ti attacco Va bene Va bene Ah No Ma no Ma mi è rovina tutto Basta Scontro Non mi interessa Sono incazzato nero Basta Eh Adesso E mi rovina la strategia Perfetta E sto lì con tutti i mostri E quello me lo evoca Perché prende danno E me lo distrugge E ti distruggo Facciamo uno scontro frontale E perdi questo duello Perdi questo duello Perdi Lo perdi Dai Andiamo allora Dai Attacchiamo Cinque turni E via Così in allegria Ah Bello eh Eh Carte potenti Nara nera Oh Shay e Crow Dopo il duello Si resero di essere conto Della stessa parte Ma guarda un po' Parlare di prima No c'è il duello Le nostre missioni Sono appena iniziate Ognuno di noi Ha dei nemici Da sconfiggere Ah Dopo oggi Sono pronto ad affrontarlo Sì forte amico mio Sì Oh tre duelli fatti Siamo Progrediti Nella storia Di un bel po' Ragazzi Che dire Duelli Eccitanti Vinti Insomma Con un po' Con qualche errore Specialmente nel primo Ma Che bisogna fare Se no non sarei io Allora in ogni modo Vi ringrazio per aver seguito Anche questo episodio Di Yu-Gi-Oh Come sempre In descrizione il link Per Instagram e Telegram Magari Iscrivetevi al canale Se non avete niente di meglio da fare Ma sicuramente qualcosa lo avrete E noi ci vediamo ovviamente Alla prossima Bye bye